Io ho conosciuto Araldo quando ero iscritto alla FGC, pur essendo Araldo non della FGC naturalmente del partito lo ricordo che molte volte ci ha tenuto delle riunioni, poi ho conosciuto ancora meglio Araldo quando nel 58 sono entrato nei cantieri navari, ancora meglio poi l'ho conosciuto nel 60 quando sono entrato nella commissione interna e di lì poi ho conosciuto anche ancora meglio posso dire sempre ancora meglio nella sezione quando facevamo parte del comitato di sezione dei cantieri navari, era un compagno che devo dire la verità che non sempre condividevo le sue idee però mi lasciava sempre grande e non lo dico in modo così demagogico, mi lasciava sempre entusando perché comunque le sue argomentazioni erano sempre argomentazioni molto approfondite molto approfondite e quindi che dava stimolo al dibattito. Voglio ricordare che sono tornato apposta per dire che in una lotta sindacale il contratto l'inverno con la neve, ci siamo organizzati per andare a manifestare davanti alle fabbriche di Merloni, allora era molto duro a lottare alla Merloni e ricordo che lui pur essendo molto più anziano di me allora, era il primo a presentarsi e ricordo che con grande entusiasmo noi cercavamo di parlare con questa gente e molte volte dicevamo anche delle, non dico degli spunti, però anche delle manifestazioni avverse dei stessi lavoratori che pura era comprensibile per questi lavoratori perché erano lavoratori che avevano lavorato all'estero e quindi le fabbriche di Merloni le avevano portate nel loro paese ed era comunque difficile parlare con loro, però credo che con questo contributo che insieme a Raldo e insieme ad altri compagni abbiamo portato alla Merloni, oggi la Merloni è una delle fabbriche che lotta come tutti gli altri. E devo dire un'altra cosa, Raldo comunque era un compagno che malgrado che volevo dire, malgrado che aveva, aveva combattuto, aveva combattuto molto, era sempre un compagno attaccato, era sempre un compagno veramente, senza far demagogia, un compagno che era sempre davanti, davanti alla fabbrica quando, quando si superava, era uno di quelli che comunque cercava di portare sempre il suo contributo parlando con quelli più avversi alla loro. E qui ho voluto rifondare queste cose perché Raldo veramente è stato un grande.